we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ricomincia la settimana ricominciano le news fino alla prossima patch quella che dovrebbe arrivare come vi avevo già anticipato tra pochissimi giorni e che porterà una bella ventata di novità e di leaks relative ovviamente alla season numero 9 forse cominceremo a scoprire il primo evento e sicuramente cominceremo a scoprire anche tutti i nuovi fortbite che ancora dovremmo trovare per continuare a completare il nostro puzzle ma nel video di oggi ce ne sono davvero di tutti i colori si parlerà della skin gemini una skin che è stata inserita nel battle royale ai tempi ancora della season 8 già due settimane prima della fine della season e che non è mai stata rilasciata ma oramai il tempo è finito cominciano ad arrivare le prime immagini vere i primi spezzoni di gameplay vi faccio vedere qualche cosa ovviamente e ovviamente ragazzi vi dirò anche la probabile data di uscita si parla però anche del nuovo revolver incredibile questa è una super notizia trovato nei file di gioco un'immagine relativa ad una pistola molto molto particolare che potrebbe fare la sua comparsa insieme ad un oggetto presente nei file di gioco addirittura dalla season 5 incredibile e chiudo con il bundle xbox un'altra notizia super interessante ne abbiamo già parlato due giorni fa sembrava fake ma è apparso qualcosa che potrebbe confermarne la sua uscita e anche la data ufficiale quindi non perdete tutte queste news ringrazio però tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xiu derone nello shop grazie di cuore ragazzi per supportare il canale mi raccomando è non dimenticatevi di iscrivervi e se la trovo l'ho persa e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video e le mie live ma prima ho una domanda da una domanda oggi devo farvi una domandina veramente super interessante non ve l'ho mai fatta ragazzi e quindi ve la faccio subito ma te qual è la mappa preferita di della tua season o meglio mi cerco di parlare in italia un po' dislessico qual è la tua mappa preferita in base alla season che hai giocato nel senso ci sono state un sacco di modifiche nella mappa qua ci sono tutte 6 le mappe presenti e modificate nonostante la forma sia la stessa ragazzi io credo che la mia preferita sia quella della season 4 quando ci fu il meteorite che creò il cratere a sprofondo stantio e ricordo benissimo che arrivare al bordo e vedere quest'enorme buco era meraviglioso la mappa non aveva la il bioma della neve che io non ho mai apprezzato tantissimo mi stufa stare sulla neve raga mi piace di più vedere il verde dimmi qual è la tua mappa preferita in base alla season qua sotto nei commenti ci tengo perché è una bella domanda a parte il mio italiano ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare di questa benedetta skin gemini 5 settimane fa è stata inserita nei codici del battle royale non è mai stata rilasciata una skin che come già potete vedere dall'immagine di presentazione ha uno stile personalizzato lo sapete meglio di me lo stile è la controparte cattiva diciamo o delle immagini interessanti in game eccola qua ragazzi la skin con il backpack perché anche il backpack ragazzi avrà uno stile e anche il piccone come vedete in questa immagine eccolo qua la versione cattiva malvagia che è sempre comunque chiamata gemini che vuol dire gemelli non è che ci vuole molto a capirlo e il piccone carota ragazzi vi garantisco che in questa immagine non rende voglio farvi vedere uno spezzone di video ragazzi una un gameplay della skin in game eccola qua non è male è vista in game secondo me però il picconazzo rende veramente un botto ragazzi è qualcosa guardalo là che te l'ha fatto vedere per un secondo adesso ve lo faccio vedere meglio questa ragazzi è la versione la controparte lo stile personalizzato stile che si potrà sbloccare con delle sfide quindi ragazzi attenzione arriveranno sfide gemini eccolo qua ma guarda che figo ma stiamo scherzando ragazzi piccone piccone o p meraviglioso raga vediamo se riesco a farvi sentire anche esatto l'audio un solo un po particolare tipo una specie di laser che si infrange però ragazzi probabilmente si vocifera che potrebbe arrivare questa notte se non è questa notte deve essere nel giorno in cui ci sarà il segno dei gemelli che se non ricordo male deve essere il 16 giugno staremo a vedere noi la aspettiamo ovviamente ma andiamo avanti e altre notizie super interessanti per quello che riguarda la skin xbox one s il bundle che abbiamo visto e che si pensava fosse fake con inclusa oltre ovviamente alla console con una colorazione molto interessante viola bellissima questa skin con tanto di deltaplano piccone che qua non è segnato e 2000 v bucks ragazzi parliamo già anche di un prezzo 299 euro come faccio a sapere queste cose ragazzi su amazon è presente questa pagina xbox one s fortnite battle royal s special edition un terabyte come vedete abbiamo il prezzo da 299 euro abbiamo anche che è un articolo da annunciare ma abbiamo in verde la data di uscita 7 giugno 2019 la domanda è è un fake è vero questo è una pagina italiana che annuncia che su amazon è possibile fare un preordine di questa skin speciale come vedete console xbox one s special edition più un controller abbinato fortnite battle royale outfit leggendario strumento di raccolta epico atlante che sarebbe deltaplano epico e 2000 v bucks poi io non so cosa sia un mont lg e un mont gp potrebbero essere le versioni quelli per i giocatori dell xbox tipo il playstation network non so se riesco a farmi capire il modo per andare online credo che sia quello io no il live gold potrebbe essere lg starà per live gold gp non ne ho idea quindi 7 giugno potrebbe arrivare ragazzi questa skin e le notizie non sono finite perché come vi annunciavo invece qua siamo nei file di gioco e proprio questa riga è quella che mi interessa a farvi vedere game weapon fort pistol sk pistol ragazzi si parla in questa cartella di armi tolte e da aggiungere e guardate un pochettino questa immagine è nei file di gioco ragazzi come vedete nella stessa cartella abbiamo anche il l'immagine proprio il file jpeg della revolver che a parer mio è una revolver in tema far west io non voglio sbilanciarmi ma c'è un'altra cosa come vi anticipavo a tema far west che non è mai stata rilasciata e che è ragazzi il longhorn un piccone presente da quattro stagioni ragazzi è uscito per la prima volta nella season 5 non si è mai visto in game e non si è mai capito come sia possibile che non fu mai rilasciato sebbene la skin quella che poi è diventata iconic non so se ve la ricordate ai tempi era il tizio con il cappuccio e le orecchie da pipistrello l'hanno fatta diventare iconic questo piccone invece non si è mai visto però è davvero molto molto a tema con questa pistola quindi si potrebbe pensare nuova modalità con nuova arma ed eventualmente nuova skin far west non lo so io vi faccio vedere quello che vedo e spero che vi sia piaciuto anche il video di oggi vi ringrazio tantissimo per averlo guardato mi raccomando un bel pollicione in su noi ci vediamo alle 13 in live ciao